Voglia di normalità, voglia di tornare a fare shopping per sentirsi come prima del coronavirus, quanto emerge dalla nostra inchiesta? La voglia sì, di uscire soprattutto, di avere qualcosa di nuovo, perché abbiamo fatto due mesi in pigiama e in tutta la ginnastica, quindi una maglietta, un paio di pantaloni, una borsa, qualcosa, sì, c'è la voglia. Avrei ripreso anche prima, ho detto? Ah, avrei? Ripreso anche prima a fare shopping. Ah, avrei ripreso. Sì, quindi insomma l'è pesato un po' questo tutto chiuso? Eh sì, tutto, non solo i negozi, tutti. Eh sì, dopo due mesi quando è stato sempre chiuso dentro. Cosa comprerà? Non lo so, vediamo, per il momento non ce l'abbiamo soldi. Devo venire a abitare a via Porteci Lunghi. E quindi farai un trasloco? Sì, sì, adesso sta cercando le mobili e mi dicono che devo aspettare il 18 maggio. Quindi sei contenta? Sì, sì, sono contenta. Perché senza i mobili di cucina tutto è bloccato, non posso fare trasloco. Sono molto contenta che aprino tutti. Sono stati bloccati due mesi e fischia, sì, ovviamente c'è anche necessità di procurarsi il materiale che intanto serve. Lei che cosa andrà ad acquistare? Eh, probabilmente abbigliamento, casalinghi, questo. Qualche abbigliamento, capo di abbigliamento di sicuro, ecco, perché erano tutti chiusi. Dopo vogliamo tornare in normalità di sicuro. Non vediamo l'ora ma ecco, pian piano. Abbiamo voglia, abbiamo bisogno e speriamo che vada tutto bene. Comunque secondo me la gente avrà anche voglia, penso di uscire di casa dopo due mesi. Quali saranno le misure da prendere? Beh, sicuramente l'igiene del negozio in primis. del camerino soprattutto, prima e dopo la prova, la sanificazione degli indumenti.